È noto che l'Italia ha un indice di vecchiaia più alto d'Europa, ma anche il secondo al mondo e questo è chiaro che richiede politiche significative e cogenti. Abbiamo una popolazione che di qui al 2050 aumenterà in modo considerevole il numero degli over 65, quindi le problematiche già oggi presenti sulla cronicità si manifesteranno in modo sempre più rilevante. Diventa sostanziale e importante che la popolazione dia una mano anche a se stessa e al sistema sanitario, ma alle istituzioni tutte. Noi abbiamo un nucleo genetico incomprimibile che è quello che declina e determina quello che è il nostro percorso sicuramente di salute, anche il contesto ambientale su cui c'è molta attenzione da parte dell'Unione Europea dobbiamo sicuramente agire, quindi c'è anche una sostenibilità ambientale su cui dobbiamo agire, ma c'è un elemento determinante che fa parte del benessere e del mantenimento di benessere. Si parla di stili di vita e di un'interazione continua che nella popolazione anche over 65 che ha uno stato di apparente salute deve subentrare per continuare ad interagire con quello che è il contesto ambientale e per mantenere lo stato di autonomia e di buone condizioni di vita. Sicuramente uno degli strumenti importanti che oggi abbiamo a disposizione in questo momento straordinario dove le innovazioni sono presenti e assolutamente funzionali, una app dei dispositivi, la telemedicina sono funzionali a che questo possa aiutarci.